Dopo decine di iniziative organizzate online, la Rassegna Impronte Femminili torna a svolgersi in presenza e prossimo appuntamento domenica 4 luglio. Esatto, siamo veramente molto contenti di tornare in presenza e di tornare a vederci e a scambiarci dei sorrisi in presenza. Lo faremo con un spettacolo dedicato ai più piccoli, una fiaba teatralizzata, una fiaba scritta da Francesca Tombari e Alessandra Palazzo, una fiaba che ha visto anche la nascita di un libro, che potrà essere acquistato anche quella sera, una fiaba che è messa in scena con più linguaggi, quindi ci sarà una parte recitata sotto la guida di Lucilla Monaco alla regia, con numerose interprete che ringrazio per la loro pazienza e dedizione per le prove che hanno fatto in tutti questi mesi, anche durante il lockdown. Ci sarà poi anche una parte dedicata alla musica, perché questo spettacolo è sostenuto anche dall'Associazione Fisarmonicisti italiana, quindi ci sarà il maestro Palazzo che suonerà la fisarmonica nello spettacolo con un indedito proprio per quest'occasione. Ci sarà anche una parte danzata con delle coreografie danzate, quindi uno spettacolo con più linguaggi in presenza alla Pinacoteca di San Domenico, domenica 4 luglio ore 19. Per chi vorrà essere con noi dico di affrettarsi a prenotare, perché i posti non sono tantissimi e molti sono già stati prenotati, quindi chi vuole magari già domattina è bene che chiami.